Nazareno Zamperla, attore stuntman e maestro d'armi del cinema d'azione italiano anni 60-80. Figlio d'arte discendeva dalla famiglia Zamperla di giocoglieri saltimbanchi e titolari di uno dei primi cinematografi ambulanti italiani agli inizi del Novecento. Me lo ricorderò. Addio, fratello. Addio, Gary. Qual era il fratello Ducato? Blecai, fermo dove sei e alza le mani. Ti devo consegnare allo sceriffo. Sulle mani, ho detto. Tu. Gary! Gary! Si tradica il lavoro del maestro d'armi in genere, diciamo particolarmente nel West. Ma nel West il maestro d'armi fa, diciamo, la regia di tutte le azioni. Che in sceneggiatura non mettono nemmeno? No, 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 sono accennato. Sono... Tutte le azioni, sì, sì. Sono accennato? Qualche cosa. O Corbucci, Sergio. Sì, perché sono già più... Ma... Ma che in genere è il lavoro. Certo. Ne staranno quindi ancora la regia di queste... Sì. Tutte le cose in metalli. Le gags sono... Certo. Quindi nel duendo... Come si uccidere, come sparare gli effetti. Per esempio, dico una cosa... Che ricordo è stupida. Però la gente sulla pistola per ringo, quando spara tipo carambola, tipo bigliardo, bang, bang, nella campana. Sì, la campana. La campana con la sancio. Sancio che muore. Era una cosa che mi è venuta in mente così da ridere. Sì. Queste cose mi vergognava di dirla, però è andata. C'è un fatto che ha sempre con il dito nel muro che fa tipo gesto della stecca, no? Le armi. Come andare a cavallo. Come si monta il cavallo. Le armi, cavallo. Cioè, in modo... Come si monta con sella americana. Cioè... Anche come muoversi. Sì, lo stico di muoversi. Sì, sì. Caminare stranamente. In partenza. In partenza. Quelli che vedi uscire. E in arrivo sono quelli che vedi buchi del sangue. Certo. Quindi i colpi in partenza sono semplicemente dei colpi a salve. A salve. Ecco. Però poi c'è quel sistema... Come avviene? Quindi elettricamente. Sono delle piccole cariche. Piccolissime. Secondo me sono piccolissime si possono mettere anche in faccia, in testa, perché sono americane. E poi le armi si mette in una piastra a seconda. Anche qua. Ecco. Quando mi cribellavano ero pieno di piastre sotto. Piastre di ferro. Poi c'è una piccola carica. E poi si mette una viscica con il sangue dentro. Si prepara la camicia, la giacca, quello che sia. Si gratta. Si rende meno forte, meno resistente. E elettricamente parti in sincro. Puoi girare anche sullo sparo. Puoi vedere lo sparo. BAM! E l'arrivo. Piccoli cariche? Sì, sì, elettricamente, certo. Via filo ovviamente. Via filo, via filo. No, no, no. È per troppo pericolo. Si potrebbe fare anche per il comando. Però è pericolo. Passa una con una radio all'interno. Ah, capisci. Grazie a tutti.